Adesso cambiamo argomento e salutiamo Sabino Cassese, giudice emerito della Colte Costituzionale, come sapete professore alla School of Government della LUIS e professore emerito anche della Normale di Pisa. Buonasera Cassese, professore bentornato a Zapping. Buonasera. Allora c'è tante cose di cui vorrei parlare con lei, ma in particolare una che mi sembra agiti un po' i commentatori, gli analisti, gli editorialisti e anche molto i social network, Twitter soprattutto, cioè ha fatto bene o male la Ministra dell'Interno ad intervenire con una circolare indirizzata ai prefetti in cui si chiede di limitare in vario modo le manifestazioni Novax, Green Pass, fino al punto di magari rendere addirittura stanziali, cioè di vietare i cortei o di non farli arrivare nei centri storici dove gli esercizi commerciali da mesi lamentano il fatto che i loro affari piangono per l'invasione di queste manifestazioni. Come ci si regola in questi casi? Sul piatto della bilancia il diritto a manifestare e sull'altro l'ordine pubblico, il buon funzionamento della vita economica e sociale di una città? Guardi, secondo me la Ministra ha fatto benissimo a suggerire l'adozione di questi provvedimenti perché l'esercizio dei diritti individuali, in questo caso la libertà di riunione, va bilanciato, contemperato con altri diritti e noi sappiamo che sono numerosi e gli altri diritti che in qualche modo vengono limitati, la libertà di circolazione perché se c'è una riunione o una manifestazione su una strada non si potrà passare, l'iniziativa economica privata dei commercianti in quella zona, la quiete pubblica e così via. E poi noi abbiamo delle norme su questa materia e abbiamo il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Questo prevede... Tra l'altro modificato proprio da Salvini quando era Ministro dell'Interno, reso più severo, si ricorda bene. Esatto, questo è un testo che noi abbiamo, un testo unico quindi che raccoglie norme addirittura ancora precedenti, risale a 1931 e prevede delle norme elementare, come dire, buona convivenza che per esercitare la libertà di riunione in un luogo pubblico è necessario un preavviso di tre giorni che il questore può impedire, ma può, senta proprio le parole del testo unico, prescrivere modalità di tempo e di luogo della riunione. E questo tra un momento vedremo che è quello che è stato fatto. Può l'autorità di pubblica sicurezza sciogliere se ci sono dei pericoli per la sicurezza, intimare se non viene sciolto dopo uno squillo di tromba, dice il testo unico, intimare lo scioglimento e se questo non accade sciogliere con l'esercizio della forza, dice proprio, la legge dice con la forza. Ora, quello che è successo è molto semplice, le autorità di pubblica sicurezza, in questo caso i questori, hanno prescritto che queste riunioni si esercitano, le manifestazioni che sono l'esercizio di una libertà di riunione, si esercitano in un luogo diverso invece che in centro. E quindi la libertà di riunione non viene in città. Con dei percorsi prescritti che non possono essere cambiati all'ultimo momento, per esempio. Non possono assolutamente essere cambiati proprio perché poi le autorità di pubblica sicurezza... Scusi, prendiamo l'esempio del traffico in una normale città. Se si svolge una riunione in un certo posto, è chiaro che i vigili urbani dovranno deviare il traffico da un'altra parte, ma se questo non è previsto, e cioè se non c'è un preavviso sul luogo dove si svolge la riunione e quindi la manifestazione, evidentemente il traffico, come si suole dire, impazzirà. Certo, come succede. Succede spesso anche quando la cosa è prevista, ma quando non è prevista è sicuramente molto peggio. E' ancora peggio. Pensi quante persone rimangono bloccate dal traffico? Il pericolo che c'è per esempio per il passaggio delle autoambulanze, per i servizi di pubblica sicurezza, per i servizi dei vigili del fuoco. Cioè ci si deve rendere conto che in una società, in una comunità, esistono diritti e doveri e che i diritti vanno sempre controbilanciati, vanno a bilanciarsi con altri diritti di altre persone e che bisogna rispettare. Se posso aggiungere con voce flebile, ma forse il ministro, la ministra, poteva addirittura farlo anche prima. Però sai che cosa ho letto come obiezione? Cioè si dice che più si mettono divieti, più si mettono restrizioni, obblighi da rispettare, più si rischia che i manifestanti violino questi divieti e che quindi si vada poi allo scontro, alla violenza, cose che invece il ministro dovrebbe voler evitare. Quindi potrebbe essere sbagliato imporre regole troppo rigide perché poi queste farebbero da miccia appunto poi al confronto diretto, alla violenza, come diceva lei. Ma mi scusi, facciamo un po' di conti sulle quantità. Stiamo parlando di manifestazioni di 6.000-7.000 persone al massimo, no? Non ho letto notizie che davano cifre più alte. Dall'altra parte ci sono i diritti di più di 40 milioni di italiani che si sono vaccinati e che vaccinandosi hanno manifestato un'opinione opposta. Ma una minoranza, una così piccola minoranza, può mettere in dubbio i diritti della maggioranza degli italiani. E anche questo va valutato. E quindi le forze dell'ordine stanno lì proprio per mantenere l'ordine. Vedevo che Salvini ha fatto una dichiarazione in cui ha detto, tra l'altro, se vietiamo le manifestazioni perché non siamo in grado di far rispettare le regole, allora il ministro non sa fare il suo lavoro. Cioè lui dice, se sei costretta a fare queste circolari perché le manifestazioni creano disordine, sono manifestazioni selvagge, vuol dire che non sei bravo a controllare l'ordine pubblico. Ma intanto distinguiamo le responsabilità. Queste ordini vengono, quella del ministero è una circolare. Gli ordini specifici volta per volta vengono date dalle autorità sul territorio. Quindi o il prefetto o il questore. Direi che il ministro non è direttamente responsabile di quello che può accadere in una o un'altra città. Le città italiane sono numerose e se vogliamo metterci a valutare questo... Anche perché poi quando il ministro non controlla bene la piazza, ci sono gli assalti ai sindacati, viene accusata di essere stata troppo morbida. Quando invece mette regole troppo dure, viene accusata di essere troppo dura. Quindi è anche difficile capire come regolarsi in questi casi. Il punto di equilibrio in questi casi è certamente molto difficile. Ma certamente siamo in presenza, primo, di una legge che prevede espressamente quelle che le ho parafrasato, sono gli articoli da 18 a 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Primo, quindi c'è una legge. Secondo, ci sono delle autorità che sono chiamate a seguire questa legge. Questa legge non è stata messa in discussione da nessuno. Salvini ha gestito il Ministero dell'Interno come Ministro dell'Interno e non ha fatto modificazioni di questi articoli, di questa legge. Quindi non sono in discussione le libertà limitate attraverso questa legge. Poi è stato ampiamente tollerato una fase intermedia che poteva essere, a mio modo di vedere, anche più breve. A questo punto si sono sperimentati i danni che producono su altre libertà e su altri diritti di questo comportamento. Le dico un'ultima cosa. Sa cosa ha preoccupato molti osservatori? Ho visto che nell'ultimo paragrafo della circolata del Ministro si dice nel precisare che le presenti indicazioni per la loro valenza generale potranno trovare applicazioni per manifestazioni pubbliche attinenti ad ogni altra tematica. Cioè non soltanto antivax, ma d'ora in poi varrà per tutti. Ma certo, ma è una legge, vale per tutti. La circolare non fa altro che ricordare il contenuto della legge. La circolare ha un valore di un atto amministrativo che serve a illustrare, a comunicare qualcosa che è già previsto da una legge. E aggiungiamo che è una legge che ha un secolo di vita, insomma, sia pure modificata nel tempo per introdurre dei criteri più liberali in quelle che erano degli appesantimenti del testo unico, le leggi pubblica sicurezza, perché il testo unico risale a 1931. Ma la Corte Costituzionale ha dovuto valutare articolo per articolo molta parte di questa legge e ne ha controllato la corrispondenza alla Costituzione, la congruità con le disposizioni costituzionali. Su questo non c'è un pre di dubbio e il Ministro non ha fatto altro che ricordarlo alle autorità di pubblica sicurezza. Professore, come sempre, grazie molto. Grazie a Sabino Cassese, ospite a Zapping. Buona serata, buon lavoro. Buona serata. Grazie a Sabino Cassese.